eccoci qui ok altra puntata sulla fotografia io ormai inizio perché tanto poi così per non disperdere le prime battute e non lasciare vuota la trasmissione sin dall'inizio perché comunque verrà riproposta su youtube e sul mio canale di facebook quindi la vedono anche indifferita oggi puntata dedicata a Nacio Lopez questo è un numero di quarto scuro la mia rivista di fotografia preferita rivista messicana e questo è il numero del 2006 e qui c'era un servizio su Nacio Lopez come potete vedere con delle foto poi tra l'altro Nacio Lopez è stato pubblicato varie volte su quarto scuro vedete qui ecco qui e quindi queste sono alcune delle immagini Nacio Lopez che io ho fatto il possibile per recuperare alcune immagini perché l'archivio online è veramente misero povero ce ne sono poche di foto per questo forse molti non lo conoscono questa è una puntata che per me è molto importante perché appunto Nacio Lopez addirittura quando ne parlo anche con appassionati di fotografia in Messico non lo conoscono molto o non lo conoscono affatto mentre invece Nacio Lopez è importantissimo per questo paese e vedremo perché vedremo perché come fotografo intendo chiaramente no ok adesso io volevo fare una presentazione mi sono preso degli appunti quindi soprattutto c'è un articolo che scrissi su Nacio Lopez e quindi cominciamo con una lettura che voglio farvi la fotografia e comincio parlando in spagnolo la fotografia non aveva il proposito di adornare le paredes come arte però più oltre di fare ovvia la crueldade ancestral del hombre contro il hombre era la grandezza di suo amore per le cose e le cose di tutti i giorni Nacio Lopez credo che si capisca Ignacio Lopez Boca Negra meglio conosciuto come Nacio Lopez Nacio Lopez è nato a Tampico, Tamaulipas nel 23 e è morto a Città del Messico nel 1986 fotografo importante nel fotogiornalismo Nacio Lopez è il provocatore della storia allora questo è un articolo che io scrissi e pubblicai nel 2011 la prima pubblicazione fu per la rivista di cui io ero uno dei soci Hyde Park Photography insieme a Marco Savarese e lì io non persi occasione di parlare di un fotografo che io avevo conosciuto soltanto poco più di un anno prima venendo qui in Messico e mi resi conto che molti quando parlano di fotografi messicani il nome che salta subito fuori è Manuel Alvarez Bravo conoscono quello e vanno avanti così Manuel Alvarez Bravo senza nulla togliere Manuel Alvarez Bravo io ritengo che Nacio Lopez sia stato molto più importante perché rispetto a Manuel Alvarez Bravo Nacio Lopez mostrò di essere un fotografo più inserito nel contesto sociale e con il pueblo quindi questo è l'aspetto importante di Nacio Lopez Nacio Lopez ha fotografato di tutto poi ne parleremo di questa cosa perché ne parleremo quando vedremo le immagini secondo me Nacio Lopez io ne parlo come Larry Cartier-Bresson messicano vedremo attraverso le immagini in questa puntata perché questa cosa a volte quando si fanno delle associazioni con altre persone non è mai giusto nei confronti della persona perché comunque ognuno ha la propria identità però io voglio rimarcare questa cosa di Bresson messicano per tutta una serie di cose che io vedo nella fotografia di Nacio Lopez e questa comparazione altisonante secondo me aiuterebbe un poco a diffondere un po' di più come spero faccia questa puntata il nome di Nacio Lopez non solo in Messico ma in tutto il mondo la fotografia è un documento visivo intrigante Boris Kossoy Messico e fotografia un dialogo intenso che ha generato maestri della fotografia famosi in tutto il mondo da Manuel Alvarez Bravo con sua moglie Lola a Harry Cartier-Bresson che è rimasto per un lungo periodo a città del Messico fino a Edward Weston e Tina Modotti che legato da un'intensa relazione amorosa arrivò in Messico quando il paese stava vivendo un vero tumulto culturale e politico dopo la rivoluzione del 1917 Ignacio Lopez Bocanegra meglio noto come Nacio Lopez nato a Tampico, Tamaulipas nel 1923 e morto a città del Messico nel 1986 fu un provocatore della storia e ideatore di una visione fotografica che trasse ispirazione dal contesto storico e politico del periodo in cui lavorò intensamente per tutta la sua vita producendo oltre 35.000 fotografie e 3.000 diapositive si sa molto poco di questo enorme archivio Nacio non può essere solo considerato un fotografo ma anche un regista, un fotoreporter un documentarista, un professore e un critico gran parte del suo lavoro come fotografo si concentrò negli anni 50 sebbene l'ampiezza della sua prolifica produzione si estendesse tra gli anni 40 e la prima metà degli anni 80 gli ultimi 5 anni della sua vita tuttavia si sono distinti in una fase diversa non dettagliata dai biografi storici vi racconterò anche un aneddoto su questo ma ancora considerata terribilmente importante per la storia della fotografia il ruolo di Lopez infatti ha influenzato tutti i nuovi gruppi ah, italiani, non si dice Lopez ma si dice Lopez e io tra l'altro ho pure un amico mio che si chiama Lopez di cognome ma anche lui magari lo pronuncia Lopez però è Lopez e il ruolo di Lopez infatti ha influenzato tutti i nuovi gruppi di fotografi che sono stati organizzati insieme per definire le loro idee concettuali e tecniche come critico Lopez si oppose ad alcune scuole di pensiero predominanti all'epoca altra cosa importante in particolare quella del primer colloquio latinoamericano di fotografia poiché affermò che la scuola citata avesse ispirato idee e intenzioni contrarie ai suoi principi ideologici già nel 1979 in un articolo pubblicato su Uno Masuno dal titolo Questionando al Conseguo Mexicano de Fotografia affermava se le fotografie esposte in una mostra museale non sono accompagnate da una posizione critica e da un forte contrasto in termini di lingua estetica il loro rischio è quello di diventare semplici oggetti folcloristici un prodotto della sottocultura turistica quindi lui spingeva anche per accompagnare dalle parole le fotografie che si presentavano e ancora la bellezza non è certo quella di un paesaggio del folklore, della danza, l'architettura un nudo parlare di bellezza è mistificare la realtà è ingannare ciò che è evidente la miseria della nostra gente è in contrasto con l'estetica del fotografo di pura bellezza quanto è importante questo? cioè pensiamo un po' quanto è importante questo concetto che molti fotografi si basano soltanto sull'estetica l'aspetto estetico e tecnico della fotografia quando in realtà se facciamo fotografia con un contenuto è ben diversa la cosa la fotografia è principalmente un mezzo di espressione documentaria in cui i contenuti dovrebbero prevalere sull'estetica e che può diventare una vera forma d'arte solo quando riflette valori senza tempo che possono essere condivisi tra la maggior parte delle persone poiché ritengo che il semplice gioco dell'estetica è un'operazione sterile cioè questo punto di vista per me non è solo il suo punto di vista è un manifesto è un manifesto di un approccio di un fotografo veramente documentarista applicando una visione molto personale della città e del tempo in cui viveva Nacio Lopez rappresentava una testimonianza attiva della trasformazione di una società in un cambiamento costante filtrata attraverso il suo obiettivo non ha dato vita a semplici immagini ma a storie vere e a volte è stato in grado di renderle surreali e altre attraverso un punto di vista iperrealistico il risultato finale di questo lavoro è diventato un archivio di fotografie che raffigurano le numerose contraddizioni di città del Messico fantasmagorico nebuloso e luminoso pieno di gioia e brio famoso per il suo anonimato diviso in quartiere e strade festivo libidinoso laborioso coraggioso pigro rituale anarchico la ricerca di Lopez attraverso l'estetica i contenuti rimane una pietra miliare importante per la fotografia in tutto il mondo da considerare con assoluto rispetto non solo attraverso l'osservazione dei suoi scatti ma anche se non soprattutto attraverso la comprensione dei suoi principi ideologici nel suo modo di raccontare storie attraverso immagini e questo era il mio articolo che scrissi nel 2011 e fu pubblicato a gennaio del 2012 nella rivista Headpark Photography poi riproposto da me sul mio blog e adesso andiamo ciao Mauro ciao Pietro ciao Adriano ciao a tutti i convenuti qui adesso andiamo a condividere lo schermo e andiamo a vedere finalmente le foto del grandissimo Nacio Lopez sento un po' di emozione per Nacio Lopez allora vi dico subito avrei avuto molte più immagini perché le avrei potute scannerizzare se fossi stato ancora in possesso di questo libro questo libro l'ho regalato a un mio amico tra l'altro c'è una storia particolare questa amicizia con lui perché lui è stato mio alunno e come spesso avviene diversi fotografi che prendono workshop o esperienze con me poi alla fine capita che diventino addirittura amici lui dopo un mese che aveva terminato il corso con me era un corso di quattro settimane andò in un negozio di Don Seles che è la via della fotografia e mi comprò una fotocamera una Yashica Electro GSN 35 e e poi io lo invitai a uscire con me a fare foto assolutamente in maniera già da da compagneros e quindi da da compagni che condividevano l'esperienza della fotografia insieme quindi già non più da da maestro allievo no e quindi poi lui mi ha aiutato in momenti di difficoltà e tutto e è venuto pure a una conferenza mi ha fatto da assistente a un workshop mi ha fatto da assistente ehm l'ho invitata a casa varie volte e in una di queste occasioni eh gli regalai il libro su Nacio Lopez che la pubblicazione Luna Cornea che faceva ha dei volumi monografici eh io l'avevo comprato in una libreria ehm in una libreria che sta fuori da dal centro dell'Eimachen il centro dell'Eimachen è una galleria di fotografia che sta a Città del Messico eh esattamente a Balderas adesso l'hanno ristrutturato è fantastico eh parecchio che non ci vado comunque e e lì tra l'altro vedi la prima mostra fotografica di Martin Parr Playa due giorni dopo che arrivai qui a Città del Messico per la prima volta gratis lì si entra gratis vedi le mostre fotografiche gratis e c'è appunto questa libreria e comprai il libro questo qui eh ci tenevo parecchio però ci tenevo poi a a regalarlo a a Ugo al mio amico no? eh e quindi e quindi qui ho trovato eh un po' di immagini è veramente poco l'archivio fotografico quindi eh adesso procederemo un po' con ordine vi mostrerò alcune delle delle fotografie di di Nacio Lopez per entrare già nel suo mondo eh una fotografia chiaramente in bianco e nero lui utilizzava una rolleflex e quindi praticamente le foto erano eh nascevano erano native in formato quadrato eh mh però eh come accadeva in per molti fotogiornalisti dell'epoca poi in sede di decisioni editoriali venivano ritagliate eh spesso e volentieri tra l'altro dagli editori e non senza che ci potesse mettere bocca eh il fotografo no? venivano ritagliate a seconda dell'utilizzo dentro la pagina eh della rivista no? del quotidiano eh Lopez presenta un mondo presenta un mondo fatto eh di eh di quello che era il Messico eh e quindi la cosa interessante è appunto questa no? eh presentando un mondo che era un Messico ehm lui fotografò la maggior parte delle foto negli anni cinquanta è stata un'epoca d'oro eh per il Messico infatti è stata anche tradotta in eh in film si parla dell'epoca d'oro del cinema messicano negli anni cinquanta e e parlere ehm adesso vi dirò anche che tra l'altro eh la personalità fotografica di di Inacio Lopez è stata sempre ehm il suo maestro è stato Gabriel Figueroa un fotografo cinematografico eh e quindi un fotografo di cinema e quindi eh anche Inacio Lopez eh la sua grande aspirazione sarebbe stata eh quella di fare regista eh poi non c'è riuscito eh e e e comunque questo emerge dai suoi scatti eh e lo vedremo anche con gli esperimenti sociali che vi proporrò per farvi vedere appunto Inacio Lopez perché eh comunque eh aveva questa questa idea di fare il direttore il regista eh e e in un certo senso riuscì a farlo attraverso eh i suoi esperimenti sociali che vedremo dopo eh un'altra cosa di Inacio Lopez particolarissima che lui fu mh vabbè andiamo avanti con le immagini e ve lo dirò mh se no ci portiamo troppo avanti ok eh come vedete sempre le fotografie di Inacio Lopez sono state eh focalizzate su su le persone ma lui fotografava a con conta su un archivio gigantesco Inacio Lopez e e si 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 concentravano molto sulle persone un fotografo di realmente di reportage che fotografò eh los pueblos indígenos indígenas eh quindi eh i le popolazioni indigene un po' in tutto il Messico eh e quindi qui vediamo un po' eh delle immagini che ci sono eh offerte da dal web no? eh è mh un fotografo che riusciva a fare dei ritratti molto intensi eh qui vediamo gli eroi eh del Messico ripresi in una in una pubblicazione in un libro un libro dei primi ragno il mio libro del primo anno e e poi è un libro specializzato eh che si concentra su Los niños eroes eh che è tutta una storia che adesso non vi sto a raccontare ma fa parte della storia del Messico eh e quindi e quindi ci sono questi ritratti intensi eh un amore per le persone evidente eh io dico perché questo fotografo non è così conosciuto a livello mondiale quando gli scatti sono di un valore estremo no? eh a volte ti viene da pensare no? vengono decisi a tavolino certi fotografi che vengono resi più famosi piuttosto che altri no? mh poi magari questi fotografi vengono considerati molto dai fotografi professionisti eh perché guardano un altro tipo di cose perché vogliono ispirarsi ad altri fotografi questo è il ricordo del Tepeyac questa è una foto fatta eh tantissimo tempo fa ma che 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 è possibile tuttora realizzare perché il Tepeyac è la montagna che sta sopra la basilica di Guadalupe dove io quasi ogni anno mi rego a fotografare a documentare eh a dicembre eh quando arrivano da tutte le parti del Messico a onorare la vergine di Guadalupe la virgenzita e e e questo è il classico fotografo che fa queste foto souvenir come ricordo del della visita al monte del Tepeyac alla collina del monte collina monte del Tepeyac no? eh e quindi con la vergine di dietro e gli sfondi così un po' anche un po' kitsch se vogliamo eh e lui ha fotografato semplicemente il fotografo che fotografava no? Un'altra foto con bambini ci sono molti bambini nelle nei ritratti nelle storie di Nacho Lopez poi scene eh urbane scene di strada eh eh fotografie street eh fondamentalmente di quel periodo eh vedete Glenn Ford e Ursula Tiesa e nell'americano quindi c'è un cinema qui e le persone che stanno camminando questa dovrebbe essere un 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 dia dei muertos perché eh da come vedo stanno tutti eh lì al Pantheon al cimitero e e stanno con le luci accese tutti quanti insieme e verso l'imbrunire eh e quindi si capisce che è stata fatta durante forse probabilmente il trent la notte del trentuno di ottobre il mi sfugge dove sia potrebbe essere Michoacanna credo che sia Michoacanna ecco un altro scatto cioè eh già con questa fotografia secondo me Nacho Lopez doveva stare in mezzo ai grandissimi e per me ci sta però a livello mediatico non ci sta tra i grandissimi come Nacho Lopez come Brassai come eh tutti i nomi più famosi no? Eh e quindi mh a volte mi sfuggono i meccanismi per cui Nacho Lopez non viene inserito dentro questa è una foto che descrive molto bene che cos'è città del Messico secondo me e con queste strade gigantesche eh vie a grande scorrimento inserite all'interno de de della città e anche eh del del fatto che comunque ci stanno sempre del dei palazzi in costruzione perché è una città sempre in continua trasformazione no? Sì. Ciao Fabrizio e poi vediamo un'altra questa eh in in questa foto che chiaramente è una scena eh di qualche performance comunque emerge il lato appunto cinematografico e e anche l'influenza del maestro Gabriel Figueroa su Nacho Lopez no? Vedete qui una campesina una contadina con eh dietro i cactus e quindi i fichi d'India cioè i cosiddetti fichi d'India che qui eh vengono chiamati tuna e e che sono il frutto delizioso che genera il cactus cactus che si mangia completamente perché si mangiano anche le foglie in pratica eh si tagliano eh si tolgono le mh si tagliano le foglie si eh puliscono dalle spine si tolgono tutte le spine e si fanno in striscioline e diventano i i cosiddetti nopales che è una specie di peperone che mh alcuni non piace qualcuno si è sorpreso che io li mangio perché comunque crea un po' di bavetta quando si cuoce perché comunque la resina del cactus crea un po' di bavetta quindi a volte sono un po' ma secondo come li fai? Se li cuoci alla brace ad esempio si mettono sopra la carne nel nel taco in pratica eh il taco è composto dalla tortilla poi ci metti la carne tagliata a pezzi e e ci metti il nopal con magari con le cipolle e e poi sopra un po' di salsa eh delizioso e il nopal sembra alla consistenza come di un peperone verde eh soltanto che il sapore è distinto è è differente e è particolarissimo e e fa bene fa bene al cuore ad esempio a questa proprietà questa fotografia è un po' una sorta di manifesto della fotografia di Nacio Lopez perché Nacio Lopez e questo era uno degli aneddoti che vi volevo raccontare eh Nacio Lopez fu accusato da molti eh soprattutto da questi detrattori perché lui andava appunto incontro come abbiamo detto di quelli che erano essenzialmente fotografi estetici e che non puntavano sul contenuto eh eh accusarono Nacio Lopez che evidentemente non stava molto simpatico a a agli accademici della fotografia ehm lo accusarono di mh realizzare molte fotografie della povertà e di fotografare la povertà mostrando un paese di di povertà ma non è vero Nacio Lopez ha tutto un lavoro realizzato mostrando il desarrollo ovvero lo sviluppo eh del Messico e in particolare di città del Messico perché eh proprio in quegli anni negli anni del boom economico che comunque visse anche città del Messico città del Messico mi parla mia moglie mi e mi dice ovviamente vedendo i film eh conoscendo anche i racconti ehm che comunque i racconti di sua nonna eh e di suo nonno eh negli anni cinquanta città del Messico era incantevole c'erano molte meno macchine c'era meno gente perché adesso siamo arrivati a oltre ventitré milioni di abitanti in una megalopoli mostro e e prima eh comunque c'erano meno persone si parla di meno di dieci milioni di persone a città del Messico molte meno di dieci milioni di persone adesso siamo arrivati a alla vertigine di oltre ventitré milioni di persone perché molti si riversarono qui a città del Messico per trovare lavoro no? Però comunque il Messico si sviluppò in quegli anni si modernizzò e lui fece tutto il lavoro sul sul appunto sul desarrollo sullo sviluppo eh del Messico come paese ci stanno qui dei dei grattacieli pazzeschi c'è della modernità che l'Italia ad esempio si sogna quindi cioè ecco perché io dico a volte si parla di terzo mondo primo mondo sono eh idee eh strane perché primo mondo e terzo mondo lo vuoi incontrare in qualunque paese in qualunque paese si può incontrare primo mondo e terzo mondo quindi non bisogna chi viaggia lo sa che non esiste primo mondo e terzo mondo ci stanno situazioni che io ho trovato tipo a Los Angeles che fanno schifo quindi eh gli Stati Uniti sarebbero primo mondo mh un paese dove hai paura di portare il tuo figlio a scuola che magari non sai se torna a casa perché l'ammazzano in una perché un pazzo ha fatto una smitragliata eh nell'atrio eh della scuola quindi cioè hai voglia dire primo mondo e terzo mondo eh non esiste sta cosa per me e lui fu attaccato per questo ma questa foto rappresenta esattamente qui si vedono le baraccopoli e qui si vede eh la torre latinoamericana quindi siamo al centro storico e vediamo questa questo contrasto tra povertà e e e ricchezza ricchezza allo stesso tempo quindi è una città piena di contrasti e eh io infatti il primo articolo che scrissi come corrispondente dal Messico per per Prisma News una rivista italiana che esisteva all'epoca eh scrissi appunto messico città di contrasti eh ed è quello che si vede anche in questa immagine no? Eh fatemi controllare un attimo se qualcuno ha commentato qualcosa verissimo fu uno dei primi a scattare i cosiddetti colletti bianchi come uomini comuni apri un concetto però assolutamente non riconosciuto della bellezza fotografica di allora sì sì Fabrizio ciao Fabio ciao Fiammetta e qui vediamo un'altra foto magistrale dove c'è eh qui ci stanno ancora i venditori di di palloni così io ne ho fotografato qualcuno al mercato qualcuno che mi segue benissimo avrà visto qualche foto con i palloni così no? E e però qui ha fatto una foto mitica perché eh fantastica perché odio il concetto mitico scusatemi mh non so perché l'ho usato e e in questo caso eh vediamo una foto eh dove si vede il palazio de Bellas Artes il palazzo di Bellas Artes che tra l'altro è stato realizzato con una struttura a con un'architettura fiorentina però è un misto eh il palazzo è un misto di arte fiorentina barocco eh e quant'altro ehm e quello è uno dei palazzi più famosi di di città del Messico forse uno dei simboli più eh più importanti di città del Messico eh un uomo con con il suo sombrero eh qui c'è l'indicazione cioè l'uomo che tiene il pallone ma sembra come indicare il palazzo di Bellas Artes che ha dentro all'interno del pallone sembra quasi come in una sfera di quelle eh con la neve oppure sembra come se sta ingigantito da una enorme lente no? Eh quindi è interessante. Qui vediamo Nascio Lopez lui da giovane eh mentre sta vagliando alcuni scatti alcune stampe e questo così vi vi faccio vedere anche Nascio Lopez. Eh questa è un'altra immagine iconica eh eh bellissimo il eh ragazzo con l'organetto che ancora esistono a città del Messico non è cambiato nulla sullo sfondo vediamo eh il monumento a alla revolution eh lì è revolution dove io di solito scendo da dal microbus e da lì me la faccio a piedi per raggiungere proprio eh a di Avenida Madero e il Zocalo eh il Zocalo è la piazza principale di città del Messico ogni 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 città qui ha il suo Zocalo e e sullo sfondo appunto vediamo il monumento alla revolution eh l'organista l'organetto eh che è un lavoratore di strada che è tipico eh eh tutto questo mi ha influenzato moltissimo nel eh fotografare perché comunque eh mh è molto importante far vedere dove ti trovi eh molte volte i fotografi tendono a a a non far capire dov'è il luogo eh dove si svolgono certe cose ma io come fotografo documentarista eh sono molto interessato a presentare le fotografie in modo che si veda e si capisca dove ci troviamo no? qui vediamo eh delle ballerine ha fotografato anche scene così eh ballerine in un night e ha fotografato eh scene anche di questo tipo un altro eh con il globo eh un soffiatore di globos di venditori di palloncini eh e e un'altra foto così meno emblematica di quella di prima con il palazio di Beia Sartes no? E questa è un'altra foto che mostra il quotidiano a Città del Messico non è cambiato nulla anzi forse sono anche più pieni di così e adesso le metro e adesso no in tempi di covid no? Però eh sono più eh sono eh pienissime le metro e e questa è una immagine emblematica di che cos'è la metro a città del Messico no? Ecco altre persone in una credo in una fiera eh poi addirittura un personaggio arrestato eh al centro e questa è una fotografia che lui ha scattato in una piscina comunale ce ne stanno varie eh dove paghi una piccolissima quota e e quindi puoi usufruire di di piscine anche perché Città del Messico è priva di mare quindi eh è questa eh questi sono alcuni degli scatti che ho trovato vediamo intanto vi vedo vi vi controllo un attimo per vedere se qualcuno ha aggiunto qualche commento un altro fotografo che si è occupato di documentari i forti contrasti sociali in Messico e Oscar Ruiz sì Pietro devo ammettere che non lo conosco molto eh Oscar Ruiz ammetto la mia ignoranza su su Oscar Ruiz eh io conosco Pedro Pedro Valtierra che tra l'altro è il direttore dell'agenzia quarto scuro e della rivista omonima e Pedro Valtierra forse sarà oggetto di una prossima puntata eh staremo a vedere e qui veniamo a gli esperimenti sociali allora eh Nacio Lopez aveva questo impulso questo questa voglia di fare il direttore il regista cinematografico e quindi incominciò a fare con la fotografia incominciò a dirigere in che senso ehm lui creava delle situazioni provocando delle reazioni eh allora mh questa questo approccio certamente non può essere definito ehm puramente documentaristico puramente giornalistico e neanche puramente da fotografo di strada da street photographer ovviamente perché lui si avvaleva di collaboratori eh o attori che facevano qualcosa un'azione però è interessante perché comunque anche se lui eh si avvaleva di questo per creare per riscenare delle situazioni eh lui riuscì a provocare delle reazioni dalla la fotografia essenzialmente non sta tanto nell'attore che sta lì facendo qualcosa ma diventa qualcosa di interessante eh come in questo caso allora lui ha chiesto a un suo amico o un suo collaboratore di incominciare a guardare in alto nel cielo come se ci fosse qualcosa sul cielo non so un disco volante e quindi lui guardando fissamente in quel modo ha cominciato ad attirare l'attenzione dei passanti e vedete eh l'uomo con la con la giacca bianca dopo indica addirittura perché nel frattempo si sono fermate delle persone fino a che non si forma un'intera folla che sta guardando e addirittura a mo' di presa in giro l'uomo esce fuori da da dal gruppo e si mette a osservare lo smirones ovvero i eh gli osservatori e quindi eh diventa una cosa a metà anche tra tra umorismo e intervento e performance no? E questa è una caspita l'altra foto che volevo presentarvi è quando una mujer eh cammina por Avenida Madero eh allora quando una donna che tra l'altro era un'attrice questa cosa è stata fatta in Italia anche da Mario De Biasi utilizzando Moira Orfei eh e praticamente questa donna dalle curve eh certamente evidenti eh cammina per per la calle di Avenida Madero è passata per Alameda eh è passata davanti a Beia Sartes eh e lui nasce l'Opes scattando eh la fotografia ovviamente sono le reazioni degli uomini a essere eh 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 l'aspetto genuino sincero e e spontaneo de della fotografia presenta delle fotografie presentate c'è una serie intera una di queste infatti stava qui e è questa no? E quindi anche un'altra foto eh io sinceramente preferisco questa di fotografia eh e qui si vede eh la reazione degli uomini al passaggio della della donna maggiorata no? Un altro eh di questi esperimenti sociali fu il contadino che si portava un maiale eh per strada eh con tenendolo con un carretto con le rotelle e e qui vedete le reazioni delle delle persone ehm all'interno del bus eh poi vediamo un'altra qui eh sempre con il maiale e il cerdo qui vedete quindi eh praticamente realizzare fotografie che che diventavano eh anche arte se vogliamo eh vedendo anche le reazioni delle delle persone no? Vedete? Ok e un esempio ancora più chiaro di esperimento sociale fu realizzato ah ma forse ah sì vedete qui ehm della donna a venita a Matero avevo la foto questa qui e poi ce n'era un'altra foto con i marinai che osservavano l'uomo che si volta eh a a guardare quindi ecco che vediamo come eh ci stanno le reazioni composte o scomposte degli uomini no? eh e l'ultimo esperimento sociale di Nacio Lopez abbastanza famoso fu questo un uomo che si porta nel suo viaggio durante il viaggio un manichino ma un manichino privo di vestiti quindi un po' eh con una connotazione sessuale evidente e guardate qui questa è la foto per me topica eh del del della serie dove c'è questa donna con questa espressione che che la guarda eh guarda l'uomo col manichino eh nudo eh in maniera particolare no? E con uno sguardo di riprovazione no? L'ha portato l'uomo l'ha portato anche ovviamente Nacio Lopez al seguito a scattare le foto portò anche sul su uno dei bus il manichino vedete queste queste questa è la serie quindi diventa anche con una connotazione abbastanza surreale e vabbè e questa e questi erano gli scatti eh degli esperimenti sociali la muñeca che significa la bambola e questo era Nacio Lopez eh nella puntata di oggi ok dai un'occhiata alle sue foto aeree ok ok grazie Pietro per la dritta e e quindi questa era la la puntata di oggi eh di un fotografo che eh ha avuto ha avuto un occhio veramente eh dentro entrando dentro a alle situazioni eh quello che io amo dei fotografi è quando riescono veramente ad entrare dentro e non che fanno foto distanti ma distanti non eh dal punto di vista della distanza fisica quanto piuttosto della distanza con le persone lui entrava dentro e e questa è la grande lezione che io mi sento di aver preso da da Nacio Lopez come fotogiornalista io eh comunque cerco sempre di entrare dentro le situazioni oggi ho scritto prima di fare questa puntata ho scritto dei tips per eh richiesti da da foto da fuchi film mexico eh perché mi hanno chiesto come si fotografa come si fotografano le le comunità indigene e io ho cercato di dare la mia spiegazione sul fatto che si entra veramente dentro che non si fa eh lavoro di catalogazione come spesso e volentieri vedo fare ad alcuni che vogliono fotografare tutto tipo non so vi faccio l'esempio del pantheon a wakaka eh dove entrano tutti questi fotografi dentro e vanno di tomba in tomba a fotografare e e io me li guardo e dico poveracci non hanno capito nulla della fotografia non non si fa quello non si fa quello per una forma di rispetto non si fa quello perché comunque quando fotografi le persone non stai al zoologico eh si fotografa mh quando tu sei veramente interessato alla persona e alla storia di quella persona e quindi ti soffermi e quindi cerchi una storia se tu fotografi tutto senza comprendere nulla alla fine di di quello hai delle foto vuote delle foto inutili delle foto prive di senso la il lavoro di catalogazione che vanno avanti in giro anche quando stanno alle manifestazioni si mettono a fotografare la gente che sorride vanno da uno poi vanno dall'altro e gli chiedono la fotografia gli chiedono il permesso ovviamente perché non sia mai che non chiedono il permesso quando invece tu il permesso è un tacito assenso nel momento in cui c'è una comuni dovrebbe essere quando c'è una comunicazione io non ho bisogno di chiedere neanche il permesso perché poi tra l'altro a me la foto del tipo che sorride ebbete eh non non mi interessa il fotografare da turista la cosa peggiore superficiale ma lo fanno in tanti e lo fanno addirittura quelli che insegnano né nelle spedizioni fotografiche si mettono lì col cavalletto dentro al pantheon eh quindi cioè poi dopo insegnano fotografia eh e e quindi nasceranno altri come loro come vediamo come succede a volte in India no quelli che fotografano la gente che posa lì da dai vagoni su sui treni in India e quindi eh e quindi dopo c'hanno pure la presunzione che loro insegnano fotografia facendo cose eh barbare secondo me e e questo succede pure tipo al gay pride vedi sti fotografi scorrazzare al gay pride passare da un trans a a a una coppia così e fotografano eh da una parte all'altra ma a a a posso fotografare sì scattano e se ne vanno via ma che è quella roba cioè allora è meglio che fai tutto come a volte ho fatto io senza chiedere a nessuno non mi va oggi di socializzare non mi va entro dentro al mio loop quasi a sociale in quel momento e fotografo perché voglio lo spontaneo voglio pezzi di corpi e e voglio eh voglio parti di corpi eh voglio fotografare l'energia e tutto il resto ma non voglio eh eh magari entrare ma se non entro non entro veramente e si capisce che non entro eh così come si deve capire cioè la fotografia è fatta così con i sorrisetti così tutte queste foto inutili al gay pride i ritratti del gay pride quello che sorride così per farsi vedere è chiaro che quelli stanno lì per farsi vedere perché le manifestazioni di quel tipo sono per farsi vedere però c'è modo in modo per ottenere dei ritratti che sono spontanei anche se se la persona sa che è ritratta come mi è capitato pure a Wacaga durante Dia dei Muertos però che non sia quella foto futile e quel ritrattino che arriva una ragazzina fidatevi arriva una ragazzina senza non la togliere alla ragazzina arriva una ragazzina ai quattordici anni col suo cellulare fa lo stesso eh quindi cioè a che serve poi ti dici fotografo tu non sei un fotografo sei sei una foto sei un fotografo amatoriale eh cioè a quel punto usa addirittura eh il tuo iPhone perché adesso le foto vengono benissimo come dicono vengono benissimo con l'iPhone fate fate le foto con 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 l'iPhone e accontentatevi quello fate gli scatti miserelli che non servono a nulla magari qualche agenzia ve le prende pure eh perché ho visto che qualche agenzia ve le prende pure però se puntate a foto iconiche a foto che restano dovete puntare che la postura sia perfetta ma perfetta in un certo modo che non è che è perfetta la perfezione formale del tutto ma è una perfezione anche di quell'imperfezione che è perfetta eh e sapere quando se uno chiude gli occhi se la foto funziona perché ha chiuso gli occhi o quando proprio t'ha ucciso l'immagine sapere quando un sorriso funziona e quando invece ti uccide l'immagine perché pure st'idea che alcuni fomentano sta sorridendo da ucciso l'immagine ma non è tutto così ma non ragionare per per con con un comma rigido non è tutto così ci sono dei sorrisi che sono fantastici in un'immagine e sorrisi che fanno schifo e che t'uccidono l'immagine bisogna avere talmente una cultura visuale alta per comprendere quando una foto funziona e quando non funziona no? E e quindi eh e va bene abbiamo fatto questa disgressione adesso eh su che cosa è per me fotografia e che cosa non non lo è o comunque è una fotografia mediocre esistono gli iphone fotografe sponsorizzati da si poi ci stanno quelli adesso c'è una nuova generazione di quelli che si portano la reflex o si portano la macchina fotografica gigantesca prima esistevano pure quelli che facevano le foto che dicevano che che loro sono amanti dell'analogico poi fanno più foto con l'iphone che con l'analogico e e e ci stanno quelli che si portano il cellulare poi le foto buone sono quelle fatte col cellulare e e e e la macchina fotografica quell'altra è stata solo per fare scena per dire che loro fotografano in quel modo eh adesso non non discetterò ulteriormente sulla differenza tra fotografia computazionale e fotografia reale eh ognuno faccia quello che vuole non è un discorso di eh contro la fotografia fatta col cellulare ma è evidente che ci sono delle limitazioni fisiche che non cambieranno mai eh la tecnologia potrà fare passi avanti ma 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 la fotografia computazionale rimarrà sempre la stessa e e quello poi si vedrà comunque bene o male eh si vedrà la differenza e si vedrà la differenza che eh vabbè poi io sono un un estremo in questo senso perché a me non piacciono nemmeno quando le lenti sono eccessivamente luminose e quando uno apre tutto il diaframma e ti fa apparire lo sfondo come se fosse un poster di dietro al soggetto a me il soggetto staccato completamente dal fondo e che il fondo mi pare un un coso un poster di dietro a me fa schifo eh e questo è fatto poi ovviamente eh per via del fatto delle lenti luminose eh poi è fatto con a volte quando utilizzi lenti tele quindi a me tutto quel tipo di fotografia io voglio vedere una foto che è ben eh a fuoco eh quasi per tutto il fotogramma quindi io su questo sono estremo a a quel punto preferisco una compatta che ti fa quelle cose invece adesso c'è l'iPhone che ti stacca tutto il fondo in quel modo orrendo orrendo però dicono è bellissimo guarda che bella foto è bellissima eh a me fa schifo però eh e vabbè eh questo era quello che che volevo dirvi nella puntata di oggi eh abbiamo fatto pure una una deviazione all'ultimo eh spero che vi sia piaciuta perché per me era una una prova importante quella di Nacio Lopez perché spero che adesso con questa puntata qualcuno in più eh comincerà a volersi documentare su questo grande fotografo messicano eh come ho detto per me Larry Cartier Bresson del Messico mh nelle puntate successive eh anche grazie ai consigli di un'amica abbiamo ehm sto valutando la possibilità di di parlare dei fotografi stranieri che sono venuti in Messico e hanno realizzato un lavoro ottimo eh perché comunque anche questi in un certo qual modo eh mi hanno influenzato no? Eh o almeno una parte di loro e quindi ci terrei a far vedere quanto come il Messico è stato fotografato da fotografi che vengono da altri paesi verissimo ci sono persone che fanno due servizi agli eventi uno con iPhone e l'altro con reflex la teoria è basta portare il pane a casa uguale niente fotografia sì e poi dipende uno da da che intenzioni ha con la fotografia se uno vuole soltanto eh mangiarci e non fare un discorso di di sfida con se stessi eh ovviamente farà quello mh e e e e io prevedo che in futuro sarà sempre più così e ci saranno sempre più fotografi con l'iPhone del resto adesso già vengono eh cacciate via interi interi staff di fotografi dalle riviste ci va direttamente non so l'art director ci va direttamente la giornalista con l'iPhone e scatta qualche foto e e quello lo facevano i giornaletti comunque eh adesso lo fanno i giornali che eh pretendono di avere una grande autorità eh che sono eh che che sono dei grandi giornali però quello lo facevano i giornaletti di provincia i giornaletti di campagna eh si portavano il giornalista direttamente che 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 il giornalista che faceva l'intervista faceva pure le le foto con la compattina eh eh nei giornali di campagna eh tipo non so eh adesso mi verrebbe pure un nome però eh però i giornali di campagna facevano quel tipo di di cosa no? E non non collaboravano con fotografi e adesso invece il mondo si è ribaltato si punta a spendere meno su tutto e quindi ai fotografi molte volte non non viene riconosciuto quello poi come abbiamo visto pure eh la battaglia di Tony Gentile nei confronti di chi ruba le foto eh sull' utilizzo delle foto non c'è più rispetto per i per il lavoro dei fotografi si rubano direttamente da tanto stanno sul web tu non c'hai nessuno eh niente a che pretendere mi rubo la foto e buonanotte no? Poi magari per eh farti stare zitto qualche qualche soldo te lo danno oppure fanno i concorsi fotografici dove un comune eh siciliano eh ti paga quanto? Trenta euro per una foto che verrà utilizzata perennemente addirittura tu morirai e quella foto potrà ehm quando dicono eh in maniera perenne ovviamente nel contratto eh eh logicamente significa che utilizzeranno la foto anche post mortem no? Eh in esclusiva magari anche la foto in esclusiva che non la puoi utilizzare tu eh cose cose assurde che 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 non stanno nel cielo né in terra ma non c'è più rispetto per per i fotografi va bene comunque questa questa è stata la puntata di di oggi l'occhio è un dono Fiammetta sì eh l'occhio è un dono però si può sempre allenare con lo studio io dico pure la regione non un comune sì vabbè quello che sia ok la regione eh ok eh sì è più grave dal punto di vista eh gerarchico eh di e di importanza istituzionale eh però tanto tanto lo farebbe pure il governo eh anche la presidenza del consiglio dei ministri non non credo che abbia a tanti eh che 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 ci faccia tanto la pensata su una cosa del genere lo potrebbero fare pure loro eh magari di fronte a qualche protesta di adesso a qualche movimento che si sta creando a la trasmissione che ha fatto toni gentile che io non ho seguito però eh l'ho 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 un po' eh vista attraverso i le varie condivisioni su su Facebook eh bene fanno eh i colleghi a protestare no? Io a volte cerco di di starmene un po' fuori perché sennò dicono sempre che io sono il polemico e e cose del genere no? Anche se però sono diritti che che sono toccati a alla nostra categoria no? Eh però va bene eh la puntata finisce qui grazie a tutti per essere stati eh qui anche oggi e ci vediamo alla prossima su sulla mia pagina eh di Facebook Alex Koghe e sul mio canale YouTube Alex Koghe e eh eh perché poi comunque domani la metterò in in registrata questa puntata come sempre eh c'è proprio la playlist sulla fotografia sul mio sito web www.alexkoghe.com eh e quindi grazie a tutti grazie a Nacio Lopez che 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 ci guarda da lassù e e alla prossima ciao ciao